. Ennio Morricone, età, moglie e vita privata del musicista Ennio Morricone quanti anni ha? Età, moglie, carriera e vita privata del musicista Premi Oscar. Ennio Morricone è il più grande musicista italiano, nonché uno dei nostri Premi Oscar. Il compositore ha 89 anni, è nato il 10 novembre 1928, e ha scritto le musiche per più di 500 film e serie televisive. . È tra i più versatili e poliedrici artisti nel suo settore, un vero e proprio punto di riferimento per i colleghi. . Morricone è diventato famoso negli anni settanta con i western allitaliana, i famosi film diretti da Sergio Leone, era tra laltro un suo compagno di classe alle elementari, Sergio Corbucci, Duccio Tessari. . Successivamente è diventato famoso anche ad Hollywood, dove ha scritto le colonne sonore di tante pellicole passate alla storia del cinema mondiale. . Qualche nome? C'era una volta il West, c'era una volta in America, nuovo cinema paradiso. La sua musica passa con disinvoltura su tutti i generi, dalla classica commedia allitaliana, al thriller per arrivare ai grammi. Ennio Morricone moglie, chi è Maria Travia?. . Morricone è sposato da ben 65 anni con Maria Travia. I due si sono conosciuti nel 1950 a Roma, grazie alla sorella di Ennio che era molto amica di Maria. . A me piacque subito moltissimo, ha raccontato il maestro in un'intervista al Corriere della Sera. Poi Maria ebbe un incidente, con la macchina di suo papà. . Un attimo di distrazione, e andò a sbattere. La ingessarono dal collo alla vita, come si faceva allora. . Io le sono rimasto vicino. In questo modo è nato il loro amore, che li ha portati poi al matrimonio, celebrato nel 1956, e alla costruzione di una famiglia. So che esistono la tenuta, la coerenza, la serietà, la durata. . . . E, certo, la fedeltà ha precisato l'artista. Per poi aggiungere, è stata bravissima lei a sopportare me. È vero, qualche volta sono stato io a sopportarle. Ma vivere con uno che fa il mio mestiere non è facile. Giornate intere senza vedere nessuno. . . Sono un tipo duro, innanzitutto con me stesso e di conseguenza con chi mi sta attorno. Ennio Morricone e famiglia, chi sono i figli del maestro?. . . Ennio e Maria hanno avuto quattro figli, Andrea, Marco, Giovanni e Alessandra. Dei quattro solo Andrea ha seguito le orme paterne mentre Giovanni è un regista e sceneggiatore cinematografico. .